Ciao ragazzi sono Superseva, buonasera a tutti e questa sera abbiamo assistito a un qualcosa di veramente magistrale è stata una serata magica per la Roma, l'unica italiana rimasta nelle competizioni europee in Conference League ed è quindi c'è solo un'italiana in questa prima edizione della Conference League che è andata avanti che sta dimostrando ancora una volta, c'è solo un'italiana che sta andando ancora avanti nelle competizioni europee della Conference League ed è la Roma che questa sera ha stradominato rispetto all'andata che era finita 1-1 poi a ritorno ha dato tutto quello che doveva fare nonostante che è finita 1-0 ma come si può dire Vittorio di Cortomuso da parte di Giallorossi e sto facendo appunto in questo post partita vabbè che non tifo Roma ma la simpatizzo per chi mi conosce qua sul mio canale io oltre a tifare per la Juve simpatizzo per la Roma che appunto è la Roma che è il mio amico Vincenzino97 che oggi stasera sono stati in live con lui nel canale di QSVS quelli che è calcio, sono stato da lui presente nel live di reaction spero che vi siete almeno divertiti a seguirci appunto a seguirmi in live da lui per poi assistere ai minuti finali della immensa gioia che è successa nei minuti finali della live di reaction quando appunto la Roma ha strameritato di vincere e passare il turno in finale dove lì a Tirana nel mercoledì 25 maggio se la vedrà contro il Feyenoord che poi nonostante il 3-2 dell'andale il Feyenoord l'aveva vinto contro il Marsiglia quindi va in finale proprio contro i Giallorossi e quindi bel primo tempo da parte della Roma con il gol di Teso sul calcio d'anno da parte di Abram e poi da parte dell'arbitraggio, vabbè lasciamo stare, ho visto solo che c'era un rigore non dato alla Roma appunto su Sergio Oliveira poi nel secondo tempo ci sono stati i minuti di sofferenza in cui Leicester continuava ad aggredire proprio la Roma cercando proprio di contraattaccarli per ancora una volta per dargli fastidio perché le squadre inglesi nella Premier League sono squadre toste cioè appena stai soffrendo e rischi di prendere un contropiede da loro loro ti rischiano di imbucarti dentro e questo lo sto dicendo appunto da tifoso italiano perché io la Premier League la conosco chissà da quando ho incominciato ad andare a seguire il calcio ragazzi cioè vabbè che conosco la Premier League vedendo le squadre inglesi giocare come Leicester questa sera che è stato un avversario tosto per la Roma in cui ha dimostrato ancora una volta è stato un avversario tosto in cui ha dimostrato cioè appunto giocando la sua partita ovviamente quindi nei minuti finali appunto la Roma è riuscita a vincere di corto muso fare catenacci in cui chiedeva a Giuseppe Mourinho che appunto una Roma stratosferica in cui è stata tanta tanta sofferenza in cui hanno rischiato di prendere il pareggio dell'Eister ma poi per fortuna con un miracoloso Rui Patrissio che ogni volta che gli vede arrivare un pallone lui lo blocca senza creare problemi in cui la Roma è stata bravissima è stata capace appunto di pressare contro gli inglesi dell'Eister e appunto innanzitutto c'è stata anche una commozione per una bella Stenico Venscio come posso dire appunto per Claudio Ranieri che è stato grande ex allenatore del Degli sulla panchina dei Fossis e poi appunto l'ex allenatore giallorosso e comunque sono contento da tifosi italiani da tifosi italiani che la Roma merita di andare in finale andando avanti nella prima edizione della Conference League dove lì incontrerà il Feyenoord è stata una serata magica per il popolo giallorosso che merita di questa festa di vincere questa semifinal di ritorno per poi arrivare in finale sono contento che vedo un'altra italiana l'unica italiana rimasta ovviamente la Roma che va avanti in finale per cui è stata una serata magica per la Roma di Mourinho va bene ragazzi io con questo concludo se il video vi è piaciuto lasciate mi piace commentate iscrivetevi al canale mettete la campanella quello su cui serve è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao prossima